Cacchio, oh ma oggi è il giorno, oggi è il giorno Tesoro? Oh mamma, sì Sei già sveglio? Sì Devi andare a scuola, non vorrei mica fare il ritardo Giusto, sì, devo andare a scuola, che bello mamma Ciao papà Buongiorno tesoro Oh buongiorno, sei già sveglio? Sì tesoro Ok, forza, non fare tardi Va bene, ok Cacchio, oggi vado a scuola, che bello, ok Non va, non va l'acqua Oh cacchio Ah, è l'ovvio La maggior parte di voi che sta guardando questo video non è iscritta Quindi per le persone che non sono ancora iscritte, fatelo Controllate E fate che non sia rosso il tasto iscriviti, ma che sia usato Quindi cliccate il pulsante iscriviti per iscrivervi Dai, dai Ecco, ecco che stanno arrivando Magari adesso in teoria dovrebbe aprire l'acqua Dai Oh sì Grazie mille Avete visto? Voi inflite un sacco sul video Quindi siate partecipi con queste cose Ok, perfetto Mi sono fatto la doccia Anche se mi sono fatto la doccia con i vestiti Ma tanto qua su Minecraft le cose non si bagnano mai Perfetto Mamma, ho finito Bravo tesoro Hai già preso il tuo pranzo? Eh sì Sì, ce l'ho Attimo Sì papà, possiamo andare Ok tesoro Io accompagno il nostro figlioletto a scuola Va bene tesoro Ci vediamo dopo Ciao mamma Ciao Fai il bravo Ok Ma non devo conoscere ancora i miei compagnetti Sì Andiamo Magari troverai anche una bella compagnetta Ok papà Siamo arrivati Grazie per passare il passaggio Ciao papà Ciao Ma che cacchio Wow cacchio Che velocità Ok adesso posso andare a scuola Eh 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 Cerchiamo di ritrovare dei compagnetti Che magari non sono cattivi Anche perché io sono molto buono come bambino Quindi non dovrebbero esserci compagnetti Perché dovrebbero essere cattivi Non dovrebbe avere alcun senso Ciao ragazzi Oh C'è? Ciao sono nuovo di qua Voi come vi chiamate? Eh Io sono Crucco Io mi chiamo Ivy Io mi chiamo Svizzer Eh Eh E' uno nuovo E io mi chiamo Svizzer Perché mi hai dato Svizzer Svizzer No Non sono uno sfigato Sono Svizzer io No sei proprio Svizzer Ma perché? Perché sei buffo Sei tanto buffo Ma no non buffo Vabbè a me non me ne frega niente Andiamo a mangiare il gelato Io voglio il gelato Vuoi il gelato? Sì Allora vieni Te lo facciamo mangiare noi Sì Quello buono Ok Quale gelato? Vieni qua Eccolo qua Se ti piace il gelato Puoi prendere quello Posso veramente? Non è che io mi hai messo cose? Ok No mangialo Diciamo il nostro regalo di benvenuto Per i bambini Buono Grazie Grazie mille È unissimo Ragazzi Ti piaciuto? Sì Dov'è la mia banana split? Maestro L'ha mangiata il bambino nuovo Bravi bravi Dai dai facciamo sì che la maestra Mette punizione anche il bambino verde È stato tu a dirgli di mangiarla Sì No è stato lui La mette anche a lui È stato lui? È stato lui? Sono stati tutti e due Tutti e due in castigo È vero sì No in castigo Forza È un simbolo Che compri la vegetale Adesso andate qui Non arriva la fatina dei denti Esatto E fate due giri di campo Forza Dubito Di campo Vai Forza Ok Un fischietto Un fischietto Un fischietto Un fischietto Un fischietto Brava 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 Beccato questo La prossima volta Prendi tutta la colpa Sei l'ultimo arrivato Non ho capito perché tu devi essere Cioè anche Tutta la colpa tua Rimani a pensare ai tuoi errori E' già Stupido Moccioso Stupido Bambino Stupido Cosa c'è? Cosa c'è? Mamma non entrare mamma Cosa è successo? Non ho tutto male Mamma Spreaser Dai fanno entrare No mamma non voglio entrare Se solo accadesse qualcosa Che mi facesse capire Che magari potrebbe avere Una possibilità In questo mondo Preparò qualcosa da mangiare D'accordo? Va bene Eh? Questa è quella cosa? Eh? Eh? Ma quello è un meteorito? Oh cacchio Cos'è stato? Mamma devo scendere Scusami arrivo Dove stai andando? Arrivo Cos'è stato? Cos'era? Un pezzo di cratere lunare Ma cos'era quella cosa? Ok che dobbiamo andare Assolutamente a vedere Mamma mia Cosa potrebbe essere stato? Cacchio Cacchio Stracacchio Ok Eccomi Eh? 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 Oddio È caduto È caduto un meteorito E' qua a fianco Che strano liquido Che c'è qua Oh E se lo toccassi? Proviamo Ah 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 Ma sono diventato Superman Oh cacchio Sì Sì Posso volare Posso sparare raggi laser dagli occhi E specialmente non mi viene da andare in bagno Cacchio Cacchio Posso diventare fortissimo Ora mi faccio vedere da mia mamma Dov'è? Mamma Ehi mamma Oh Ah 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 Cattino Cattino Che ti è successo? Oh no 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 Come faccio a prenderti? Ah 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 Wow Ehi mamma Guarda Ma 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 tu stai volando? Sono diventato un supereroe mamma Sì ma anche i bravi supereroi si tolgono le scarpe quando entrano in casa Oh scusami mamma Comunque hai visto? Sono diventato un supereroe Oh tesoro lo eri già per la mamma Oh Guarda no mi prendi Ti ho detto Ah Ah Non ti riprendi Non ti riprendi Ehi ragazzi guardate chi c'è E chi? C'è il fallito Ma come si è vestito? È il carrevale È un caon Sì Dov'è il circo? Vai guarda un po' Vai tirati un pugno in faccia Grucco Un pugno in faccia E che io? Perché si Mi ha preso Aiuto Ragazzi No lasciami No 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 Lasciami Lasciami Sì Vuoi andare in alto? No Andiamo in alto Sì Andiamo in alto Adesso Andiamo in alto Ragazzi Qualcuno vuole Mi salvi Lasciami Sono un pozzo Magnaco Vuoi ancora ridere Idiota No No Non voglio Eh Andiamo via Ti lascio Sei pronto Vediamo se riesci a cadere con le gambe All'impiedi Ma non posso sopravvivere È impossibile 3 2 1 No No Ah Lo vado a prendere Ti ho preso Ok Ci è mancato poco Lasciami andare Vai via Fuori Esca Via Dai Sto bruci Sono avanti in bagno Mi sono fattuto Catozzo Ci vuole Un altro giro Ci vuole Un altro giro Negli idioti Proprio Sì Proprio così Ragazzi Io sono diventato Un supereroe E adesso Devo andare anche a capire Cosa stanno facendo Le altre persone Per salvarli No Oh mio Dio Devo chiamare la polizia Oh no È la polizia Oh no È la polizia Perfetto Allora Ascoltami bene Moccioso Tra poco arriveranno I tuoi genitori D'accordo Ti sei cacciato In un male di guai In arresto Ok Sei stato messo In stato di fermo Quindi dovrei aspettare qui Ok Arriveranno i tuoi genitori Pagheranno la cauzione E poi Saranno cavoli loro E tuoi Ok Mamma Ragazzi Questo è secondo voi Che a Superman Gli fa male Schifetelo qua sotto Nei commenti Mi raccomando C'era un materiale Che magari Mi faceva ritornare normale O che comunque Mi faceva male Magari se lo trovassi Potrebbe funzionare Schifetelo qua sotto Nei commenti Tesoro Che cosa è successo Il mio bambino Svegli serino Cosa è successo Tesoro Ti faremo andare via di qua Prendi il telefono Prendi il telefono Amore Mamma Mi sentirei Ti farò uscire di lì D'accordo Troveremo un modo Troveremo un modo Insieme E tornerai a casa Non posso guardare Tranquilla tesoro Tieni duro tesoro Mi raccomando Ti verremo a tirare fuori di lì Vieni Amore Dai non piangere Risolveremo tutto Mamma Come faccio a dormire Su queste cose Non devi farlo Vieni qua In che senso Senti Beh ecco Te lo spiego in parole semplici Ok Sì Il crimine in città Sta serpeggiando E ho bisogno Che tu ci dia una mano Perché a quanto pare Sei un bambino speciale Oh sì 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 Assolutamente Ti do una mano Apri la porta Ok perfetto Allora dov'è il crimine Dov'è 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 l'incendio Va bene Dovrebbe essere qua dentro Qualcuno ha piccato l'incendio Cacchio Wow lo spegne con le mani Sì sì Perché io sono forte Ormai Vengo le cose con le mani Vedi Va bene Ti copro le spalle Bambino Come ti chiami? Eh super Super sbri Super sbri Eh ecco Ok Sistemato Sembra andato tutto bene Sta bene signore Chi è che ha piccato l'incendio? Chi è che ha picchiato l'incendio? Chi è che ha picchiato l'incendio? Non l'ho visto Non l'hai visto? No stavo lavorando Mi sente bene adesso signore? Sì un po' i polmoni Ecco Cos'era questa risata? Chi potrebbe essere ragazzi? Scrivetemelo qua sotto nei commenti Chi è che ha una risata del genere? Che Fa il cattivo Nel mondo di superman? Scrivetelo qua sotto nei commenti Ciao